Cecilia Camellini sarà in terza corsia e la finale paralimpica dei 100 stile libero categoria S11. Abbiamo in Vasca la vice campionessa paralimpica e primatista del mondo ma le avversarie sono temibili. Non sarà facile salire sul podio, non sarà altrettanto facile cercare la medaglia d'oro però tutto è possibile. Partita la finale Cecilia Camellini in corsia 3, nettamente migliore la virata di Cecilia Camellini che ora deve dare il tutto per tutto, deve sprintare al massimo. Sbanda nel finale Cecilia Camellini ma riesce a mantenere il vantaggio, andiamo a prenderci la medaglia d'oro con Cecilia Camellini e andiamo anche a migliorare il record del mondo 1-0-7 e 29 grandissima. La prova dell'azzurra che prende l'oro. Siamo pronti per ascoltare per la prima volta la paralimpiade di Londra 2012 lino nazionale italiano?